25 motivi per aderire al progetto 21 e scuola del fai-da-te 1. Entrare a far parte di una comunità attiva e creativa Il progetto 21 riunisce persone con diverse competenze, hobby e culture, unite da valori comuni come altruismo, cooperazione, rispetto per la natura e l'ambiente 2. Dedizione a progetti socialmente utili Offrire il proprio tempo libero per attività di crescita personale e sociale, contribuendo a un futuro migliore per tutti 3. Trasmettere conoscenze e esperienze ai giovani, condividere le proprie passioni e competenze con le nuove generazioni, favorendo la loro crescita e formazione 4. Trasformare hobby in lavoro, imparare a trasformare le proprie passioni in esperienze lavorative e opportunità di reddito 5. Amore per la natura, coltivare la passione per fiori, animali, piante e natura, imparando nuove tecniche e condividendo esperienze 6. Costruire ecostrutture, imparare a costruire serre, casette in legno, solarium e laghetti zen, favorendo un approccio sostenibile alla vita 7. Condividere competenze specifiche, offrire il proprio contributo in vari campi come acquariofilia, giardinaggio, idraulica, elettricità, fotovoltaico e molto altro 8. Dedizione flessibile, impegnarsi in base alle proprie disponibilità, dedicando al progetto sabati, domeniche, pomeriggi o alcune ore serali 9. Esperienza in cambio di vitto e alloggio, scambiare le proprie competenze con vitto e alloggio presso partner, ecovillaggi e strutture ecosostenibili 10. Volontariato e recupero materiali, dare il proprio contributo al recupero di materiali usati per i laboratori del progetto 11. Investire in un futuro sostenibile, sostenere la costruzione di ecosolarium, ecovillaggi e materiali per i volontari 12. Donazioni di materiali, donare materiale utile alla realizzazione dei progetti del progetto 21 13. Realizzare progetti in proprio, collaborare con il progetto per realizzare ecostrutture Vuoi scoprire le altre cose che puoi fare insieme a noi?